Carta vinci o carta perdi? Carta vinci o carta perdi? Dov'è l'asso? Qua! Hai perso! Non lo so, dottore, fatto sta che da quando c'è il mio cugino mi sento più fiducioso nei miei mezzi. Io pensavo addirittura che lui odiasse l'albergo per via del fatto che il nonno, morendo, lo lasciò a noi anziché che a loro. Invece no, lui sembra che all'albergo ci sia addirittura più affezionato di me. Per la prima volta nella mia vita sento che non mi può succedere niente. Oh, comunque l'albergo era pure il nostro, il nonno l'ha lasciato a voi, però era pure il nostro. No, signore, perché mio padre al tuo padre gliel'ha pagata la sua parte. No! Non osi dividere l'uomo ciò che Dio ha unito. No! Perché, mamma, noi ce l'abbiamo pure con lui. Certo. Amonì! Mi devi dire a tuo cugino che se non paga entro tre giorni... Bumum! Andate a caccia? Solo guardando in faccia la morte posso combattere questa paura di morire. Ma non puoi morire quando ti pare a te. Devi aspettare il tuo turno. Ma no! Anche due energumini russi che sono qui fuori dalla porta ogni ora per sapere dove sei. E adesso io e te ci dobbiamo dividere la torta. Ma perché volete tutti i soldi da me? Ma che c'è scritto? Ma monopoli! Se io firmo la ricevuta, lei diventa proprietario dell'albergo. Certo. E allora c'è un problema. Un momento! Questi soldi sono falsi! Ci stanno in traguento! Oh! Non che ora c'è io ma fiasco alle calcaneci. Come lo conosco io, mio cugino non lo conosce nessuno. Mi ha sempre truffato. Fin da quando eravamo piccoli. Con il gioco delle tre carte. Vai, vai, ragazzi! Te lascio in macchina! Se non paghiamo i mappiuti ci ammazzano. Se li facciamo arrisare ci ammazzano lo stesso. Qualunque strada, morto alla morte. Con il gioco delle tre carte. Come lo conosco io, mio cugino non 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 lo conosco io. Grazie a tutti.